Ciao a tutti ragazzi, benvenuti, bentornati. Benvenuti sul mio canale per questo nuovo video dedicato a Captain Superstar Dream Team, anniversario in tinte bianco-nere. Quest'oggi come già anticipato ieri andremo a concludere questa prima giornata di anniversario pullando sui giocatori della Juve per i quali dovrò poi fare una piccola correzione rispetto a quanto detto non tanto nel video di ieri quanto più nelle live degli ultimi giorni. Però per fare le cose per bene, come sempre, prima andiamo ad esaminare tutti i giocatori che sono stati inseriti e i giocatori che sono stati reworkati perché abbiamo anche 5 rework. Partiamo da quello che sulla carta tra i rework doveva interessarmi di più, ovvero Gote, Germania, Rising Sun. Perché era quello che doveva interessarmi di più? Perché tra tutti quelli che sono stati reworkati 5 giocatori, lui è l'unico debuff. Sono un po' giù di tono perché ancora non ho ripreso perfettamente la voce da ieri. Tra 4 ore di live, più registrazione video, le mie corde vocali sono state messe ampiamente a dura prova. Ad ogni modo, Gote, attaccanti di tipo tecnico, 1211 punti di stamina, 29-8 d'attacco, 21-2 di difesa, 24-25 praticamente. Di forza fisica, forza fisica buona devo dire, tutto sopra gli 8000, in attacco sostanzialmente buono per modo di dire. In realtà con le statistiche dei giocatori nuovi ormai questi parametri sono tutti almeno di 1000 punti sotto la media, almeno 1000 punti sotto la media, sia per quello che riguarda dribbling e passaggio che per quello che riguarda il tiro. E ovviamente anche la questione difensiva con contrasto e intercettazione che sono sugli 8000 punti. Caratteristiche di Gote, lui aveva un dribbling di tipo S e un tiro, di tipo S e poi passaggio di tipo A, specialista del tiro angolare, non perde impietosità anche se usato per tirare in porta da un'angolazione molto stretta. In realtà sì, sì, effettivamente è così, in questo caso sì, però occhio perché angolazione non vuol dire distanza, la distanza viene calcolata, viene calcolata sempre. Abilità di squadra con 5 o più giocatori stranieri di tipo tecnico, parametri tutti giocatori della squadra, più 24%, quindi è già una delle team skill nuove, non la massima col 25, però arriva già a un 24. Dicevamo, giocatore debuff con 3% di bond e meno 2 e mezzo di debuff, un 5 e mezzo complessivo che praticamente è nullo, non è poco, è nullo. Vabbè, killer di mediani e difensore contro centrocampisti e difensori, parametri più 20%, cross al centro una palla alta e tecnica speciale di tiro potenza più 20%, grazie al cielo perché il suo tiro è da 445, quindi sì, dovrebbe superare i 500 punti tra una cosa e l'altra. No, allora, visto così mi sembra ancora tutt'oggi un giocatore assolutamente mediocre e vabbè, pace. Speravo di poterlo utilizzare nella mia debuff, ma direi che no. Zompiamo adesso a Richard, di solito i portieri li tengo per ultimi, in questo caso ho voluto fare un'eccezione perché pur non avendolo ancora visto bene, qualche anticipazione nella live di ieri l'avevamo vista e non mi sembrava un granché al pari del collega Gotte. Ad ogni modo, Francia, squadra, Catalonia, 1178 punti di stamina, 10.4 di pugno, 12.000 praticamente di parata, 6 di velocità, 7.4 e 7.9, quasi 8.000 di maestria. Allora, contro giocatori di club, parametri più 15%, va bene. Abilità di squadra come Gotte, ma con i giocatori di club di tipo agilità, quindi 24%, la parata, una parata e una respinta, parata da 4.80, respinta da 4.40, più parata e respinta di tipo A. Legame, un 3.5% con 3 giocatori di club indipendentemente dal colore e quant'altro. Scudo, 3% di scudo e quindi già così, 3.5 più 3 siamo a 6.5, contro un 5.5 di Gotte debuff, però, vabbè, è giusto che gli scudi, i giocatori con lo scudo, in teoria, siano più alti. Il problema è che questo è più alto anche degli ultimi giocatori debuff, non solo di Gotte che è un rework, però, vabbè, se il full power so che è attivo tutti i parametri più 10%, in più lui si autoscuda di un ulteriore 10%, vale tutto sommato lo stesso identico discorso di Gotte. È migliorato? Sì. È giocabile? No. Il nostro Milfanter, Roberto nella sua versione del San Paolo, 1.185 punti di stamina, 29.2 d'attacco, 24 di difesa, 24.100 di forza fisica, specialista nel tiro, 10.800 di tiro, 9.100 di potenza, anche in questo caso non malissimo, ma siamo ben lontani dai parametri di tutti i giocatori nuovi usciti negli ultimi mesi e anche in questo anniversario, per ora. Dribb da 9.3, passaggio da 9.000, contrasto da 8.000, praticamente, intercettazione da 7.6, neanche esageratamente buono in forza fisica perché velocità è solo 6.600, sostanzialmente lui è un... non mi parte la schermata, sostanzialmente lui è un tiratore. Poi, abilità di squadra, anche lui, 5 giocatori del club di tipo resistenza, parametri più 24%, killer del blocco, se l'avversario sceglie di bloccare parametri più 20%, quindi comunque, anche con quelle statistiche, non tutti i difensori riusciranno a bloccarlo facilmente, qualcuno comunque sì, un po' per via del colore, un po' perché comunque, per carità, è 20% e tanto, ma comunque a livello statistico è ancora abbastanza bassino. Il fatto sta che lui ha un tiro basso, da 490, tutte le altre tecniche, ragazzi, se volete utilizzarlo, dovete necessariamente passargliele. Legame con due più giocatori del club di tipo resistenza, tutti i parametri dei giocatori della squadra a 3%, anche lui scudo, riduce del 5% il mano sui parametri dei giocatori alleati. E questo addirittura, il totale arriva a 8. Va bene, annullamento del sigillo. Nulla fino al sigillo delle tecniche speciali che ha subito e per fortuna, perché Roberto non è che ha proprio fiorfiori di tecniche da poter passare, credo che col tiro raso terra ne abbia tipo due, poi abbia due dribbling, tutte le sue altre tecniche sono singole, quindi direi che nel suo caso ci sta. Combinazione con Tsubasa nella stessa squadra, parametri più 20%. Ci sono i giocatori brasiliani in campo, maggiore il bonus ai parametri di Tsubasa, in questo caso, massimo 6% fino a 8 giocatori. Hai voglia a giocare con 8 brasiliani in campo più Tsubasa? Per carità è fattibile, questa cosa non interessa particolarmente lui, al massimo interessa Tsubasa, è una cosa in più. Allora, visto così, il Dream Collection e soprattutto l'ultimo Roberto del San Paolo, uscito il mese scorso, gli stanno ovviamente una spanna in mezzo sopra, però se giocate con una formazione con base club di tipo resistenza, se giocate con una formazione full bond e incontrate una debuff, lo mettete dentro nel secondo tempo, vi piazzate quel 5% in più di scudi e tanti saluti alla debuff, tanto per cambiare. Per dovere di cronaca, giustamente perché qualcuno può darsi che ancora non lo sappia, se mi vedete sconsolato parlare dei giocatori con gli scudi è perché da un po' di mesi a questa parte, da inizio anno praticamente, più o meno tra gennaio e febbraio, ho iniziato a costruire il mio team improntandolo appunto sulla funzione debuff. Ergo, ogni giocatore con scudo che viene fuori, specialmente comunque se sono scudi importanti, come nel caso appunto del Roberto che abbiamo appena visto, per me è una specie di pugnalata al cuore, perché i giocatori debuff, poi comunque lo vedremo anche con i giocatori della Juve, al pari dei giocatori bond, non è che sono cresciuti così tanto a livello di bonus come i giocatori con gli scudi e per carità, tutto sommato, ci sta il problema è che se uno gioca con una formazione full bond, che notoriamente dovrebbe essere debole contro una formazione debuff, con degli scudi così alti, gli basta cambiare due barra tre giocatori tra primo e secondo tempo per riuscire ad annichilire completamente il 90% delle formazioni debuff presenti nel gioco che hanno come malus ulteriore il fatto di essere estremamente difficili da costruire, più difficili da costruire rispetto a una formazione full bond o una formazione mista bond e scudi. Chiudendo questa piccola parentesi, passiamo ai due rework dei giocatori giapponesi Dreamfest, partendo con Matsuyama, 1331 punti di stamina, 29 a 3 d'attacco, 22 a 6 di difesa, 24 a 4 di forza fisica. Visto così sembra praticamente un giocatore banner, perché ha sostanzialmente quasi le stesse statistiche dei giocatori reworkati che abbiamo visto fino adesso, che sono giocatori gacha. Comunque centocampista offensivo e centocampista difensivo di tipo resistenza, la sua specialità dovrebbe essere comunque il tiro, 10.400 di tiro e 8.600 di potenza e il passaggio, non tanto per il passaggio ma per la sua tecnica di 1-2 se non ricordo male. Non l'ho usato tantissimo questo Matsuyama, e bene o male comunque ce l'ho. 9.800 di passaggio, 8.700 di maestria. Abilità di squadra, con 5 più giocatori giapponesi tipo resistenza, tutti i parametri, più 24%, quindi un'abilità di squadra già di quelle intermedie. Colpo dell'incendio, minore la stamina e maggiore la potenza delle tecniche speciali, massimo 20%, quindi è un giocatore che tende a performare molto verso la fine della partita. Ha un passaggio di tipo S e il tiro dell'aquila a piena potenza, anche lui di tipo S, tutto il resto dovete buttarcelo sopra voi. Legame, se ci sono due o più giocatori giapponesi tipo resistenza, tutti i giocatori, più 3%, anche lui scudo, anche lui 5%, un altro bello 8% complessivo. Se vince un contrasto, full power, barra del full power, più 12%, determinazione, se hai almeno un punto di stamina, puoi usare le tecniche speciali alla loro normale potenza, killer di stamina, consumo di stamina dell'avversario con cui viene il contrasto, più 10%. Perché parlavo prima dell'1-2? Perché l'1-2 notoriamente è la tecnica ad esclusione del tiro che consuma più stamina in assoluto all'interno del gioco. La peculiarità di questo Matsuyama dovrebbe essere gli arriva palla nella mediana o sulla trequarti, se volete usarlo come trequartista, gli fate fare un bel 1-2 per fargli guadagnare quanti più metri possibile e per farlo stancare il più possibile e poi scagliate il tiro sfruttando sia determinazione, quindi non avere problemi a livello di stamina, che la sua apilità passiva colpo dell'incendio. In genere, questo archetipo di giocatori si utilizza in questo modo, in realtà comunque vale per lui sostanzialmente lo stesso discorso di tutti i giocatori che abbiamo visto fino adesso, ok è stato reworkato, ok per alcune cose verrà anche comodo, ma sostanzialmente è la riserva di una formazione full bond che entra nel secondo tempo quando deve affrontare una debuff. Fine. Ultimo giocatore, fra quelli reworkati, il buon Taro Misaki. Come sarà questo Taro Misaki? Vabbè, ok, non ci piovo niente, vabbè, c'è un capista offensivo di tipo tecnico, lo sappiamo, Rising Sun lo sappiamo, 29.100 d'attacco, 21.9 di difesa e 23.100 di forza fisica. Copia e incolla di tutto quello che abbiamo visto fino ad adesso, sono statistiche alte ma comunque non paragonabili a quelli degli ultimi giocatori usciti. Parametri più 24%, perdona, abilità di squadra, 24% con 5 più giocatori giapponesi di tipo tecnico, colpo vigoroso, maggiore la stamina, maggiore la potenza delle tecniche speciali, massimo 20%. lui si usava buttandogli palla in mezzo e facendogli fare il tornado supersonico Sky Alpha. A full stamina, con un 20% in più, ha una tecnica che di suo ha già 545, anche se le statistiche di tiro non sono come quelle degli ultimi giocatori usciti, tira comunque delle cartelle allucinanti. In alternativa si potrebbe anche fargli, mettergli il tiro balenante di Raju assieme a Tsubasa e Yuga, però quello è abbastanza vincolante anche a livello di team. Già il tornado supersonico Sky Alpha ti obbliga a mettere in campo Tsubasa e vabbè, quello potrebbe essere il meno perché il 99,9% di chi gioca questo gioco gioca con Tsubasa, ma se non avete anche uno Yuga performante forse è meglio tenergli il tiro singolo. Legame con due più giocatori giapponesi tipo tecnico, tutti i parametri dei giocatori della squadra, 4%, e ma dai, ma non sarà mica scudo anche questo? Sì, ha lo scudo anche lui, vabbè, in teoria già ce l'aveva, quindi questa non è che è proprio una novità. Riduce del 2% in malus ai parametri dei giocatori areati, qua tutto sommato posso starci, sì, è un 6% complessivo, ma non è che l'hanno cambiato particolarmente rispetto a prima. Annullamento del sigillo, annulla fino a un sigillo delle tecniche speciali che hai subito, e va bene perché nel suo caso, essendo un giocatore particolarmente abile nel gioco aereo, volendo sfruttare il tornado supersonico Sky Alpha, il fatto che qualche difensore possa bloccargli quell'unica tecnica aerea potrebbe effettivamente dare un po' di fastidio. Balla del full power, quando segna? Balla del full power più 10%. Tra tutti, tra tutti, forse è quello un pelino più giocabile, più che altro perché se giocate tanto con, come si dice, sulle palle alte, lui effettivamente avere un trequartista che su palla alta comunque ancora ad oggi riesce a segnare con una discreta regolarità è una cosa sempre utile. Chiaro, non stiamo parlando di un giocatore top meta, però tra tutti quelli che ho visto fino adesso nel suo tipo di gioco, in uno schema di gioco ben inquadrato, molto ben inquadrato, mi pare forse l'unico ancora utilizzabile. Lo sarà anche tra un mese, credo sinceramente di no, però questo si vedrà più avanti. Veniamo ora ai giocatori della Juve, partendo da Juga nella sua versione baulata. La correzione che accennavo a inizio video rispetto a quello che ho detto nei giorni scorsi durante le live è che questi giocatori del Piemonte, pur avendo la maglietta originale, sono giocatori Next Dream. Io invece ero convinto, ero straconvinto che al pari dei giocatori del Barcellona che sono usciti negli ultimi mesi, fossero semplicemente giocatori di club. I giocatori del Barcellona, se voi andate a vedere, esce fuori Catalunia, non viene messa la serie di appartenenza, in realtà poi nel database vengono associati a Road to 2002 come serie di appartenenza. Mentre invece questi sono già giocatori Next Dream. Questo ha aperto un mini dibattito nella community italiana per la classica domanda, ma quindi essendo giocatori Next Dream potranno essere trovati anche nei futuri banner Next Dream? La risposta non è così scontata come sembra, perché per esempio i giocatori della J League, noi abbiamo giocatori della J League con maglia non ufficiale che possiamo trovare per dire anche nei ticket e giocatori della J League con maglia ufficiale che invece non troviamo più e non troveremo più a meno di nuovi banner J League in futuro però nell'arco di quest'anno. Con questi giocatori Next Dream si potrebbe usare lo stesso ragionamento dei giocatori Dream Fest o meglio esordio con maglia ufficiale e poi riproposti in avanti con maglia non ufficiale, quindi con maglia del Piemonte così come era presentato nel manga. Sì, potrebbe essere, ma essendo questo forse il primo caso e dico forse perché in realtà non siamo sicuri che possa effettivamente accadere così io ad oggi non mi sentirei di dare per scontato nel fatto che si possano trovare in futuro in eventuali banner, in altri banner Next Dream ovviamente fuori rate nel fatto che invece non si possano trovare e quindi o ve li portate a casa qui o non ve li portate a casa più. Ripeto, in realtà la cosa non è così scontata come sembra. Io mi auguro di cuore che vengano comunque rimessi anche nei futuri banner Next Dream magari senza maglia ufficiale, sarebbe meglio tenerli con la maglia ufficiale però poi qualcuno giustamente potrebbe dire ma perché loro si è i giocatori del Barcellona, no? Però ripeto, vedremo. Adesso non è una cosa che ci interessa così su due piedi adesso ci interessa sostanzialmente vedere come sono questi giocatori e capire come possono essere incastrati nelle nostre squadre e soprattutto se avranno una durabilità abbastanza buona da poterci investire sopra qualche Dream ball. Ad ogni modo, tornando a noi, partiamo con Yuga la versione baulata che ci hanno regalato che si possono prendere anche altre versioni tramite il mercato delle monete dell'evento del Piemonte attaccante di tipo tecnico credo che sia tipo il quarto Yuga del Piemonte tecnico che esce in questo gioco perché è uscito prima il Gacha, poi è uscito il Dream Collection poi è uscito il Dream Fest e adesso ci hanno messo lui non esiste ancora, a memoria, mi sembra che non esista ancora uno Yuga del Piemonte di tipo resistenza curiosità nella curiosità Yuga ad oggi comunque nella Juventus ha giocato 20-25 minuti del primo tempo della partita con il Parma e basta ha giocato invece una stagione intera con la Reggiana e abbiamo una sola versione di Yuga della Reggiana almeno ho i dell'Arbese, quelle 3-4 versioni ce le abbiamo no, lui ha una versione della Reggiana e 857 versioni della Juventus va bene, vendono di più, la club sa fare i suoi conti ma non capisco perché non abbiano fatto allora la stessa cosa con Aoi mettendogli una versione dell'Albese e 300 dell'Inter questo sinceramente non l'ho capita però torniamo a Yuga Baulato 1198 punti di stamina 27-2 d'attacco 19-7 di difesa 23-100 di forza fisica a livello statistico nulla di che visto così è inferiore forse anche anzi togliamo il forse ai giocatori reworkati che abbiamo visto poc'anzi super solidarietà di squadra super solidarietà di squadra 24% con 5 giocatori di club di tipo tecnico e nel mio caso va bene perché io al momento questa è la formazione che utilizzo quindi anche solo a portarmelo in panchina andrebbe bene più sono i giocatori di club in campo maggiore il bonus ai parametri massimo 20% fino a 5 giocatori considerando che il meta tutto sommato anche in questo anniversario pare essere abbastanza stabilmente incentrato sui giocatori di club a queste statistiche bisognerebbe aggiungere un 20% pressoché fisso cosa molto importante vedete la sua skill principale avanzata dei bianconeri è un 1-2 generico quindi può essere fatto con tutti i giocatori presenti in campo perché dico che è una cosa abbastanza importante perché ipoteticamente la club tra bonus login e versioni di questo Yuga ottenibili dagli eventi può essere già portato Bondary Break 4 il mio consiglio è specialmente se non lo dovete usare come titolare e di aspettare a portarlo Bondary Break 4 di tenervi da parte almeno una delle sue versioni perché comunque quell'1-2 è un 1-2 di tipo S e può essere insegnato a qualunque altra versione di Yuga presente nel gioco inutile dire che la versione Gacha e la versione Dreamfest sono migliori complessivamente rispetto a questo è un baulato ci si arriva da soli in realtà la versione nuova Gacha la versione Gacha la nuova versione della Juventus ha già quella tecnica quindi non gli potrebbe interessare di meno però la possibilità eventualmente di passarlo anche in futuro alla sua versione Dreamfest potrebbe essere una cosa buona specie se non avete trovato la versione l'altra versione della Juve dico questo perché l'altra versione della Juve ce l'ha non come tecnica principale quindi volendola si potrebbe utilizzare un ticket di rimozione ad ogni modo ripeto consiglio generale se non avete pressa premura di portarlo a bondo a ribreche 4 io potrei averle effettivamente questa premura almeno una copia tenetela da parte per quella tecnica lì altre tecniche di tipo S il dribbling della tigre e il tiro ragio che ovviamente non è non è più un tiro valido all'interno di questo gioco bisogna necessariamente insegnargli in un altro minimo minimo quello del time attack ma proprio minimo minimo se ci sono due o più giocatori del club di tipo tecnico tutti i giocatori della squadra parametri 2,5% debuff se ci sono due o più giocatori del club di tipo tecnico parametri della squadra avversaria meno 3,5% un 6% complessivo che praticamente è lo stesso valore complessivo del trio baguette che uscì a marzo del 2021 quindi o 2020 addirittura adesso non mi ricordo era 2020 o 2021 comunque uff un bel po' di tempo di tempo fa maestro dell'area di rigore dentro l'area di rigore parametri più 10% killer di stamina consumo di stamina dell'avversario con cui avviene il contrasto parametri più 10% è forte sì e no dentro l'area di rigore effettivamente può dare un po' di fastidio però viene comunque abbastanza facilmente bloccato dagli attuali difensori del gioco subisce comunque i sigilli certo se lo fate tirare in bocca al portiere dentro l'area di rigore probabilmente qualche gol riesce anche a segnarvelo è un bondari comunque un bondari 4 ipoteticamente facilmente realizzabile regalato tiene praticamente il passo con tutti gli ultimi giocatori baulati che sono stati regalati negli ultimi tempi ovvero comunque giocatori che grazie al bondari facile possono comunque essere utilizzati nella peggiore delle ipotesi ve lo tenete in panchina per l'abilità di squadra l'altra versione di Yuga questa invece è quella pullabile attaccante di tipo agilità Piemonte Next Dream vabbè questo vale per tutti quanti 30.003 di attacco 23.003 di difesa 26.006 di forza fisica qua già iniziamo a fare degli altri ragionamenti vedete un 10.225 la bava ho iniziato ad avere la bava tipo come i cammelli nel deserto vabbè potenza 10.000 praticamente quasi spaccati più di 9.000 punti sia in driven che in passaggio che in contrasto che in intercettazione dove ho già visto questa cosa più o meno più o meno molto più o meno a 1.255 punti di stamina più o meno l'ho già vista con con natureza debuff perché lui come passiva ha forza totale quindi maggiore la stamina maggiore è il bonus ai parametri massimo 20% quindi lui pronti via le statistiche che vedete prima già un 20% in più se ci sono 5 più giocatori giapponesi di tipo agilità giapponesi attenzione non dei club 5 più giocatori giapponesi di tipo agilità tutti i parametri più 25% team skill completamente nuova tiro al volo dello scatto selvaggio tiro alto da 400 da 490 punti che scaraventa via un avversario che si trova sulla traiettoria della palla l'1.2 che vi dicevo prima lui ce l'ha come skill secondaria ha anche un tiro basso debole il tiro al volo della della tiglia selvaggia ovviamente bisognerebbe insegnargli quello del suo nuovo evento se non ricordo male dovrebbe essere un tiro basso sto andando a memoria e quindi non l'ho ancora rifatto correggetemi nel caso se sbaglio ha bisogno necessariamente di un tiro di un tiro rasoterra finiamo prima di vederlo poi faccio gli altri ragionamenti legame con due più giocatori del club di tipo agilità tutti i parametri 5% killer del blocco se l'avversario sceglie di bloccare parametri più 10% quindi il primo tiro suo non so quanta gente lo può bloccare non so quanta gente lo può bloccare forse forse giusto Leon Dick perché Leon Dick ha il vantaggio di colore ha il bonus dentro l'area di rigore quindi forse giusto Leon Dick ma non sono nemmeno tanto sicurissimo di lui e vabbè bozza quando è stanco però deve essere bello stanco tecnica speciale a palla alta potenza più 6% tecnica speciale a palla bassa potenza più 6% è uno che deve tirare al volo il modo migliore per usare questo Yuga è prendere Tsubasa chance maker buttarla a Yuga dentro l'area di rigore lui che sia bloccato che non sia bloccato dai difensori la scaglia e al primo tiro oggi oggi specifichiamo bene questa cosa al primo tiro oggi credo che segni probabilmente a chiunque forse anche a Callusias nonostante lo svantaggio di colore perché comunque a Callusias sui tiri al volo non gli si attiva non gli si attiva la passiva annullamento del sigillo annulla fino a due sigilli delle abilità speciali che hai subito e va bene perché essendo appunto uno che deve principalmente tirare al volo non è che gli si possono insegnare 12.000 tiri a palla alta e a palla bassa ora dicevo il dibattito in questo caso qual è molti si chiedono se era meglio il Dreamfest l'ultimo uscito naturalmente o se è meglio lui se addirittura valeva la pena sacrificare il Dreamfest per insegnare il tiro nuovo a lui allora un tiro rasoterra ce l'ha bisogno comunque per ogni evenienza ovvio scontato banalissimo il Dreamfest secondo me complessivamente rimane un giocatore superiore perché comunque il Dreamfest a mano a mano che la partita volge al termine guadagna punti alle statistiche e soprattutto il Dreamfest fa tutto dribbla tira passa contrasta intercetta fa tutto questo Yuga invece va utilizzato come dicevo prima un po' come Natureza debuff e io ne ho ben d'onde perché Natureza debuff ormai lo utilizzo da mesi cioè con questa cosa che lui è particolarmente performante con la stamina alta non utilizzerete praticamente mai le sue skill difensive perché vorrebbe dire consumargli della stamina importante e renderlo meno performante in sottoporta in fase in fase realizzativa le uniche volte in cui userete le sue tecniche difensive è tipo se siete al 35esimo del secondo tempo e state vincendo 1-0 allora lì dovete far di tutto per non far segnare l'avversario mancano 10 minuti alla fine ve ne fregate e andate di contrasto e di intercettazione come se non ci fosse domani però è proprio come si dice un caso limite è una cosa molto 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 specifica il Dreamfest per tutto il resto rimane complessivamente migliore come è giusto che sia comunque perché ragazzi parliamo di un Dreamfest quindi uscito neanche da tantissimo uscito a dicembre mi sembra oggettivamente il minimo detto questo per chi non ha il Dreamfest questo Yuga è un ottimo giocatore esattamente come è stato Natureza Debuff per le formazioni Debuff è un giocatore che nelle giuste condizioni in questo momento poi tra qua X mesi ne riparleremo ma in questo momento dovrebbe garantire almeno e sottolineo almeno un gol a partita non è poco Edgar Davids in arte Davi centrocampista difensivo tipo agilità 1292 punti di stamina 25 e 100 in attacco 26 e 6 di difesa 22 di forza fisica 10.000 punti sul dribbling e non me lo ricordo Davids così tanto dribblatore però 9 e 3 di passaggio 9 e 5 di contrasto 9 e 9 quasi 10.000 di intercetto 8.100 sulla velocità quindi comunque il dribbling è bello bello tosto davvero e anche un 7-7 ha pure 7.100 punti di blocco così tanto per che va bene ormai non sono più niente però comunque fanno sempre statistica se ci sono 5 o più giocatori di club in questo caso di tipo agilità parametri di tutti i giocatori della squadra più 25% killer di mediani a trequartisti contro centrocampisti offensivi centrocampisti difensivi parametri più 20% quando avevo letto per la prima volta questa cosa io dissi ah cavolo se fosse stato centrocampisti offensivi e attaccanti sarebbe stato sgravissimo lo vedremo più avanti perché invece è comoda questa cosa dei centrocampisti dei centrocampisti offensivi comunque tecnica sua principale dribbling da 420 non è un gran dribbling però vabbè dribbling ha anche lui l'1-2 generico con tutti poi ha un contrasto di tipo di tipo S e un po' un piccolo paradosso gli manca un'intercettazione che gli va insegnata dalle altre versioni di Davids presenti nel gioco con due più giocatori del club tipo agilità parametri tutti giocatori della squadra più 5% quindi anche lui un full bond aumento dei parametri giocatori del Piemonte parametri più 1,5% compreso se stesso tra parentesi consumo di stamina per le tecniche speciali meno 20% quindi giocatore molto difficile da stancare perché gli va insegnato un intercetto di tipo S perché lui ha anche l'80% di probabilità di effettuare un'intercettazione automatica che non consuma stamina annullamento del sigillo annulla fino a un sigillo di tecniche speciali che ha subito e va bene perché comunque è vero che qualche versione di Davids adesso nel gioco ce l'abbiamo ma non è che sono proprio così tante e soprattutto non è che sono così varie a livello di tecniche e come dire come centrocampista difensivo è bello 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 metterlo a fianco ad un regista vero e proprio come quelli del Barcellona che sono usciti negli ultimi mesi sarebbe tanta roba vorrebbe dire avere una mediana veramente veramente coi contro cojones Alex Del Piero chiudete le valigie amici si va Berlino Beppe in arte Alessandro Delpi è Del Piero lo sappiamo tutti attaccante centrocampista offensivo di tipo tecnico 1252 punti di stamina 30.500 di attacco 23.4 di difesa 27 di forza fisica il giocatore sulla quale la community si è più divisa per qualcuno è fortissimo per qualcuno è una pippa ancora io non l'ho visto bene l'ho travisto giusto così al volo adesso lo vediamo meglio 11.000 punti di tiro 9.5 di potenza anche 9.2 di maestria e 800 di velocità quindi sulla forza fisica è bello compatto più o meno in tutto 9.8 di dreaming 9.7 di passaggio ci stanno 9.2 di contrasto 9.2 di intercettazione ci sta a livello statistico vabbè livello statistico tanta roba super solidarietà con 5 più giocatori dei club di tipo tecnico tutti i parametri più 25% tecnica speciale di tiro escluso è palla alta palla bassa ma credo che lui non abbia neanche tiri alti e bassi potenza più 25% e va bene perché il suo tiro il tiro in zona d'empi è un tiro che ha solo tra virgolette 475 punti di stamina però con un 25% fisso diventa un bel tiro anche lui e soprattutto non perde la sua impetuosità anche se usato per tirare da un'angolazione molto stretta in realtà non è proprio così il tiro non perde veramente impetuosità dell'angolazione se questa descrizione ce l'ha la passiva del giocatore la passiva del tiro semplicemente gliene fa perdere di meno quello si avanzata dai bianconeri quindi la sua tecnica principale è l'1-2 genenico che abbiamo visto prima poi vabbè c'ha il tiro e il dreaming di tipo S e un contrasto di tipo A lui dovrebbe avere tutte tecniche di tipo S tra l'altra sua versione e quelle acquistabili nel mercato quindi va completato va completato praticamente anche lui full bond se ci sono due più giocatori del club di tipo tecnico tutti i giocatori della squadra al 5% maestro dei pronostici al 20% se prevede vince un contrasto parametri più 20% se prevede vince un contrasto con quelle statistiche oggi credo che riesca a zompare più o meno agevolmente il 90% dei giocatori presenti nel gioco più o meno più o meno non credo tutti però quasi quasi tutti supporto con Davy e qua parte la roba di Davy che vi dicevo prima se affronti un contrasto difensivo in solitaria c'è il 60% di probabilità che Davy alleato partecipi al contrasto e per questo che va bene il fatto che Davy abbia il bonus anche contro i centrocampisti difensivi perché questo del Piero in un contrasto difensivo in solitario avrà ad affrontare principalmente o difensori o mediani e quindi con i mediani eventualmente anche il Davy della Juve gli verrebbe in soccorso e sarebbe un gran bel soccorso tra parentesi non dovete per forza avere l'ultima versione di Davids c'è anche la versione gacha normale verde che comunque oggi portato bond a ribreche 4 è giocabilissimo ve lo garantisco perché lo sto tuttora utilizzando io c'è la versione Dream Collection c'è l'altra versione dell'Olanda quella forse tra tutte è l'unica che non dovrete fidare di striscio però comunque questa roba vale per tutti i Davids non è necessariamente solo per l'ultimo uscito potenzialmente del range del Driggling dell'1-2 con un 1-2 riuscito il range è 50% parte dalla tre quarti arriva praticamente in bocca al portiere perché 50% è tantissimo determinazione se hai almeno un punto di stamina puoi usare le tecniche speciali a loro normale potenza non dovete neanche preoccuparvi di stancarlo di stancarlo troppo è un gran bel giocatore è veramente un gran bel giocatore nulla da dire a me personalmente piace sulla questione quanto potrà durare all'interno del meta quello è un gigapunto di domanda proprio enorme ma vale per tutti i giocatori che andiamo a pullare vale per questi vale per quelli che sono usciti nel mese scorso vale per i gaccia che usciranno nei prossimi mesi al momento chi lo pulla se lo gode e il mio modo di vedere fa bene a goderselo ed esordisce per la prima volta all'interno di Captain Tsubasa Dream Team super Pippo Inzaghi Pippo mio alta tensione piange il cuore a vederlo con quella con quella maglia devo dire la verità anche perché in linea temporale non è azzeccatissima come cosa però di questa cosa ne parleremo nel prossimo banner Juventino quello che uscirà nella seconda parte del mese quando ci sarà anche Bacchius ragazzi ma l'avete vista la parata di Bacchius vabbè ne parleremo a tempo debito ne parleremo a tempo debito focalizziamoci adesso su Super Pippo 1233 punti di stamina attaccanti di tipo resistenza 9600 di dribbling 11900 12000 praticamente di tiro e 10600 di passaggio già il fatto stesso che Inzaghi abbia delle statistiche sul passaggio è sbagliato a prescindere se dovessero fatto giusto il giocatore dovevano mettergli tipo 100 punti di passaggio e forse 99 sarebbero stati anche di troppo comunque difesa 23900 o 95 sia sul sul contratto che sull'intercettazione 7000 punti di velocità e 7 di maestria 7 e 7 e un 1008 anche di potenza è un tiratore e fino a qua l'abbiamo capito tutti direi che dubbi non ce n'erano abilità di squadra con 5 più giocatori del club tipo resistenza più 25% killer di difensore e portiere contro difensore e portiere parametri più 15% fissi quindi 15% a quelle statistiche non è poco tiro spezzalini a un tiro da 500 punti di impeto va benissimo non è il miglior tiro cioè tutto sommato del Piero con il 25% in più complessivamente dovrebbe tirare meglio però lui col 15% se gli arriva al portiere con quelle statistiche insomma gran cavolo di tiratore anche lui ha l'1-2 avanzata dei bianconeri ha un dribbling e ha un passaggio di tipo S qua vale lo stesso discorso di prima che cavolo gli metti un passaggio tipo S ad Inzaghi che c'è ancora Barone al centro dell'area di rigore che sta aspettando palla anche adesso legami con due più giocatori del club tipo resistenza per tutti i giocatori della squadra 2% unico giocatore debuff di tutto sto marasma di giocatori nuovi che sono usciti vi rendete conto che ho esaminato 4 giocatori nuovi e 5 rework un totale di 9 giocatori di questi 9 giocatori sono 2 sono debuff 1 è come se non esistesse Gote Gote praticamente è come se non esiste ah no 3 si dimenticavo dimenticavo Yuga Baule dimenticavo Yuga Baule quindi in tutto dovrebbero essere 10 quindi 1 è come se non esistesse Gote l'altro Yuga ha tipo 27.000 versioni migliori lui che dovrebbe essere l'unico giocabile 4 e mezzo quindi con 2 un 6 e mezzo un 6 e mezzo complessivo vabbè ormai è inutile ripetere per la millesima volta le stesse cose avete capito anche voi come la penso in tal senso va bene è il giocatore che più di tutti quando andrò a pullare vorrei trovare per la mia formazione debuff maestro del contrasto singolo se affronti questa nuova abilità latente se affronti un contrasto in attacco quindi con palla a lui un avversario in un 1 contro 1 quindi solo 1 contro 1 parametri più 10% a lui e consumo della stamina meno 15% in questo caso escluso naturalmente i tiri verso il portiere è buona perché se questo 1 contro 1 avviene contro un difensore lui si becca il 10 di qua il 15 di là è un 25% in più anche senza maestro dei pronostici se il difensore non è quello giusto tra virgolette dovrebbe riuscire a saltarlo anche senza zeccare necessariamente la tecnica giusta se invece la zecca praticamente lo salta 9 volte su 10 a prescindere sigillo è una tecnica speciale dell'avversario con cui avviene il contrasto ormai quasi tutti i difensori o hanno l'antisigillo o hanno la doppia tecnica quindi questo potrebbe interessare o non interessare vantaggio suo rispetto a Del Piero dal punto di vista offensivo è che lui ha l'annullamento del sigillo invece Del Piero l'unica sua pecca forse è proprio che subisce i sigilli degli avversari il zaghi da questo punto di vista è al sicuro ed è un gran cavolo di bell'attaccante il problema tecnico forse è che io adesso non ho visto le tecniche nei mercati quindi adesso mi direte no Barde guarda che nel mercato ci sono anche i tiri a palla alta e palla bassa ecco dicevo al momento visto così l'unica sua pecca è che essendo solo attaccante quindi potendo giocare solo in quel ruolo considerando che ci sono portieri che comunque sono particolarmente buoni contro i tiri raso terra sarebbe stata una cosa utile dargli anche un tiro a palla alta e un tiro a palla bassa anche perché comunque in zaghi nel gioco aereo che non faceva le rovesciate però non era proprio sto gran pippone ripeto però non ho ancora visto le tecniche nei mercati quindi se poi ci sono là fate finta che non abbia mai detto questa parte detto questo direi di andare finalmente a pullare eccoci qua ok alla domanda Barde che cosa hai trovato nei ticket ragazzi come sempre come tutti gli anniversari i ticket li tengo per fare una mega estrazione finale nel giorno del dreamfest o nel video del che farò per il dreamfest per il momento sto accumulando quanto più possibile e vabbè ragazzi cosa buona la club finalmente ci ha fatto un anniversario con un banner a step solo 5 step credo tra le altre cose anche ripetibili io personalmente non so se consigliarvi o meno di ripeterlo se proprio cercate un giocatore specifico nel mio caso personale l'ho già detto mi piacerebbe particolarmente eventualmente trovare in zaghi ma al di là di quello che mi piacerebbe trovare o meno mi piacerebbe che per una volta tanto mi desse due giocatori diversi all'interno di queste di queste 5 estrazioni due giocatori nuovi diversi cosa che praticamente da quando esistono i banner next dream credo che a me non abbia mai dato non in un giro singolo almeno vabbè quella da 30 vuota avrei anche voluto ben vedere il contrario poi andiamo con quella da 40 4 piccioni ma niente fiamme quindi non dovrebbe a meno di no neanche non sono completi terza estrazione SSR garantito la cosa buona dovrebbe se ci sono le fiamme bianche mi hanno detto che è un giocatore della Juve quindi sono viola sono viola e quindi già sappiamo no dai anche con le fiamme viola anche con le fiamme viola super pippo inzaghi me la son chiamata andiamo fino all'ultimo perché eventualmente trovarlo doppione questo è uno di quei rari casi dove trovarlo doppione mi andrebbe benissimo non bene mi andrebbe benissimo in questo caso mi andrebbe benissimo preferisco trovare inzaghi doppione piuttosto che del Piero Davids e soprattutto Yuga che non mi servirebbe a bene amata mazza pur non avendo il Dreamfest solo perché è di tipo agilità e non perché come attaccante non sia buono solo per quello personaggio nuovo garantito adesso dovrebbe darmi le fiamme bianche a prescindere che schifo sono due gabbiani qua se non c'era il garantito era l'ennesima vuota no fiamme verdi dai per una volta una volta che mi serve veramente il doppione dammi il doppione si è buggato guarda meglio di così non potevo chiedere meglio di così non potevo chiedere risparmio due tamozzo per inzaghi e mi porto a casa anche Davids meglio di così non potevo chiedere effettivamente forse per l'abilità di squadra avrei preferito del Piero che cacchio si lamenta ma chi si lamenta risparmio un tamozzo ho trovato il giocatore che volevo più di tutti cacchio più felice di così veramente farei fatica farei fatica a essere perfetto comunque si vedo che gli step sono eventualmente ripetibili perché c'è l'estrazione con 30 dreamball quindi gli step sono ripetibili e va bene questo vuol dire che comunque potrò andare eventualmente anche a fare poi lo step il secondo banner dei giocatori della Juve chiudiamo con un paio di notifiche e precisazione extra lunedì arriverà questo nuovo banner con i giocatori dream collection l'abbiamo detto sia in live l'ho ripetuto anche nel video di ieri è vero ragazzi che ci sono in copertina anche per quello che riguarda il banner pay dei giocatori particolari è altresì vero che noi non siamo sicuri che quei giocatori nemmeno nel banner pay siano in rate up non ci sono voci specifiche che al momento indichino la possibilità che ci siano dei giocatori specifici in rate up quindi potrebbero esserci quei giocatori in rate up così come potrebbero esserci quei giocatori in mezzo ad altri 100 giocatori dream collection tutti con lo stesso rate tenete molto a presente questa cosa e vabbè ad ogni modo sto banner arriva dopo domani quindi tra un paio di giorni comunque tutti quanti tutti quanti sapremo del fatto dell'estrazione dei giocatori della dream collection è già stato confermato effettivamente che il giocatore straniero sarà tedesco in questo caso i miei 5 euro virtuali oggi li punterei su Snyder oggettivamente tutta la vita perché uno Snyder dream collection ancora manca siamo in un anniversario quinto anniversario del gioco e secondo me ci starebbe effettivamente uno Snyder dream collection o alla peggio un mullerone via se proprio dovessimo introdurre anche dei nuovi dei nuovi portieri detto questo ragazzuoli per oggi era tutto spero che il video vi sia piaciuto se ho sparato qualche vaccata e sicuro l'avrò fatto perché ormai per me è un must chiedo chiedo venia pace belli alla prossima ciao ciao ciao